Ormai è andata, come è andata è andata, mi hanno detto che ho ballato a ruota libera, sì, in effetti, in parte sì, io non sono una ballerina professionista, anche se tutto sommato il fatto di aver ballato a ruota libera è piaciuto. Insomma, adesso lo stanno per farmi, prima già due mini interviste, adesso la terza, la parrucca dice che è spettinata, dice un effetto voluto, boh, in realtà non c'è avuto il tempo di mettere bene, pari signori miei, che se deve fare? Il sorvegliante mi stacca il telefono, comunque un bacione da nulla, da ballando on the road, con l'augurio di andare avanti.